Nell'incontro dei sindaci metropolitani con la ministra Azzolino ho sottolineato l'importanza dell'attenzione di tutti gli organi competenti nel settore della scuola, della salute, dei trasporti per quanto riguarda la condizione delle scuole nella regione siciliana e nella realtà padermitana. Ho sollecitato linee chiare, indicazioni precise per consentire di fronteggiare il rischio di pandemia attraverso un'estensione di uno screening scolastico dedicato che sia esteso a tutte le scuole e al tempo stesso di valutare la possibilità di riapertura di scuole soltanto nella presenza di condizioni, non soltanto di sicurezza all'interno delle scuole ma anche di adeguato sistema di garanzia e di accertamenti sanitari e del sistema dei trasporti. La centralità della scuola si misura dalla capacità di coinvolgere tutte le istituzioni competenti intorno a questo bene primario che è la educazione e formazione dei nostri giovani.